Ciao a tutti ragazzi, sono Scricciola901, eccoci qui con un nuovo video della saga di Harry Potter e la Pietà Filosofale. Allora, nel precedente video abbiamo fatto la visione di volo con Madame Boomba e naturalmente da Ernione ci ha insegnato l'incantissimo Alomora. Infatti ero andata a visitare le stanze segrete prendendo il gelatine e quello che mi serve e adesso andiamo a lezione di incantissimo, usiamo l'alomora. E' certo, ce la faccio sempre io. Allora, intanto tiriamo le gelatine. Che brava che so' stata. Eh, la figurina. Ripeto, non posso vederle perché ho il tasto S che mi ha abbandonata. Quindi, purtroppo non vi posso far vedere il foglio omaggio. Prova con la libreria. Se hai finito di compiacerti, Erwin, dai un'occhiata a quella casta magica. Lancia l'incantesimo Alomora per aprirla. Ma va, Rgnone, come se non lo sapessi. Alomora. Cosa mi va di darlo? Solo quello. Ok, lo specchio. Eh, lo sapevo io. Cioè, usano uno specchio soltanto per una scioccolana. No, vabbè, uno spreco totale. Che genna che sono. Come avete capito, ragazzi, Hogwarts va visitata in ogni angolo più possibile e immaginabile e trovate tantissimi passaggi segreti. No, ma... Non sapevo. L'aula di incantesimi si trova oltre questa porta. Cioè, tutto sto rigirino, per cosa? Ma va, va. Vabbè, andiamo a incantesimi, va? Benvenuti, giovani maghi. Io sono il professor Vizius. Oggi vi insegnerò l'incantesimo di limitazione Vingardium Leviosa. Osserva bene il simbolo dell'incantesimo Vingardium Leviosa. Quando mi fermo, tieni premuto il pulsante del mouse e segui il movimento. Dopodiché, rilascialo. Guardate che sembra facile, ma poi in realtà non lo sono. Vediamo quanto ho fatto. Ebbè. Vingardium Leviosa. 93%. Davvero strabiliante, potre. Grazie. 5 punti a Grifondoro. E siamo a 100 punti. Questa volta cerca di essere leggermente più veloce. No, no, no. Pretendono pure la velocità. Eh, vabbè. Vediamo quanto ho fatto. Eh, 97%. se facessi così anche alla fine sarebbe perfetto. Continuiamo con la lezione, Potter. Che bella lezione. Vediamo. che bella lezione. Ah, non è andata per cento. Buono. Una brillante prestazione, Potter. Eh, modestamente. 15 punti a Grifondoro. Vediamo se riusciva a fare l'ultimo. Questa volta cerca di essere leggermente più veloce. Ce la devo fare. Eh, sì. Sbaglio sempre all'ultimo. Eh, appunto. Non capisco perché. Che sfortuna. Questa volta ce l'avevi quasi fatta, Potter. Faccio bene i primi te e il quarto lo sbaglio sempre. Mamma mia. Ora puoi accedere alla sfida a Vincardium Leviosa per esercitarti con l'incantesimo. Seguimi, Potter. Mamma mia. Sei un buon nano, sto professore. Madonna mia. Lancia l'incantesimo Vincardium Leviosa su quella statua. Dopodiché portala sul grosso piatto. Raffreddata. Allora. Bene. Si è inceppato un poso. E ora? Come faccio a rilasciare? Ah, ok. Ammazza. Prima l'Huptor. mancava poco mi... mi sporcherava. Questo proprio se ne frega. Eh, vabbè. Andiamo a fare sta sfida. No. No. Mi sento. Mi odio. Mi sento. Sì, stavolta mi ho fregato. State lì. Belli. Mi rompendo. Mi rompendo. Maledetti gnomi. Se solo in questo gioco ci fosse il lancio di gnomi sarebbe perfetto. Va bene. C'è un libero salva partita. Prendiamo tutto lo che c'è da prendere. Gelatina contro gelatina. Un peggio. Poi uno scrigno. per ora mi discrigni nessuna figurina. Strano. Eh, vabbè. Allora, mi sembra che qua devo avviare i cancelli. che non sbaglio. Si rinferde. Si rinferde. Si rinferde. Anche dalla natura. Vingardium Leviosa. Ma a me non mi serve Vingardium Leviosa adesso. Vabbè. Ahia. Vedete, c'è già anche un gnomo lì. Oddio. Vabbè. Si rinferde. Si rinferde. Ho sbagliato. Guarda, guardalo come corre. Si rinferde. Si rinferde. Si rinferde. Si rinferde. Ma veni qua testa di cavolo di un gnomo. Oh. Eh, sta lì svanuta non mi rompe da parte. Si rinferde. Ce n'è anche un altro. Si rinferde. Ah vabbè. Mi ha subito ste chinti. Si rinferde. Si rinferde. e quindi poi mettere i massi con il vingardium leviosa. Così non mi fa andare. Peccato. Va bene. vingardium leviosa. Oh. No. Lo vuole proprio... Vingardium leviosa. Eh si. Si è incantato. Vingardium leviosa. Va bene. Ok. Scusatemi. Si è incantato. Va bene. Vingardium leviosa. Maledetto gioco. Eh vabbè. Vingardium leviosa. Vingardium leviosa. E la porta si è aperta. Ok. Ciao mio amico. Divertitevi a stare lì distesi morti. Allora. Qua se non erro... Prima... Facciamo il libero di salvataggio. Eh vedete. Stella. Poi se non sbaglio prima di arrivare là che poi mi sembra che siamo verso la fine c'era qualche segreto. non so se qua o più avanti no perché così non posso mi sembra dall'altra parte che c'era qua sopra mi sembra allora di là di qua si va verso l'uscita apriamo lo screen comunque volevo dirvi dopo aver fatto tutta la serie di Harry Potter e la pietra filosofale se avete intenzione che faccia un altro let's play ditemelo nei commenti perché ero indecisa se fare tutta la saga di Harry Potter dall'1 al 7 oppure magari che ne so faccio ora Harry Potter e la pietra filosofale e pensavo anche di fare la serie di Kingdom Hearts o Kingdom Hearts visto che sono un amante di Final Fantasy avevo intenzione di fare quella bellissima saga o se no pensavo anche di fare Bugs Bunny Lost in Time o addirittura un gioco vecchissimo che mi ricordo che era per Playstation 1 quello di Tarzan ditemi voi nei commenti oltre ad Harry Potter che altro gameplay volete che farò leggerò e vedremo un attimo comunque le mie intenzioni erano Harry Potter Kingdom Hearts Bugs Bunny e altre varie serie degli anni 90 2000 più o meno ok abbiamo preso la stella e mi sembra che qua di segreti non ce ne siano più quindi possiamo andare verso la fine ah si c'è quella là presa la stella aspettiamo che faccia il giro dell'oca se no il nostro caro Harry fa un bel volo peccato che non abbiamo il maneco di scopa dentro alla tasca se no si volava direttamente lì e muoviti a tornare eccolo qua ci siamo fatti un mini saltino per miracolo ok e vai ammazza professore è proprio contento di vedermi mamma mia vediamo se c'è qualche segreto no non c'è è sicuro devo usare vingardium leviosa non l'ho immaginavo io no però il segreto scelta da questo allora mi ricordavo bene e niente ragazzi adesso il video finisce qui poi naturalmente dovrò andare a lezione di erbologia e e niente spero che il video vi sia piaciuto mettete un mi piace come dicevo prima fatemi richieste se volete che continui la saga di harry potter oppure che ne faccia altri altri gameplay un bacione alla prossima